Troppo rumore per tutti, o quasi. Cambia l'organizzazione dei tavoli di bar e ristoranti nella zona della Movida di Pescara. L'adozione del piano di risanamento acustico da parte del Comune ha innescato alcune modifiche all'accoglienza degli avventori, per esempio meno tavoli in strada e al massimo in numero uguale a quelli presenti all'interno del locale. Il piano di risanamento acustico stilato dal Comune di Pescara prevede anche la verifica continua dell'eventuale superamento dei livelli di soglia. Si è arrivato da poco tempo all'approvazione di un piano di risanamento acustico fatto all'adozione, meglio, di un piano di risanamento acustico fatto dal Consiglio Comunale, piano di risanamento acustico che è stato interamente preparato da un tecnico abilitato, da un ingegnere che ha stabilito delle misure da seguire per fare in modo che i livelli di inquinamento acustico si potessero ridurre nel quadrilatero della cosiddetta zona movida. Da quel momento sono stati chiesti dei pareri alla provincia e anche alla regione che sono rientrati e da quel momento, chiaramente prima che si arrivi all'approvazione definitiva di questo piano in Consiglio Comunale, i dirigenti hanno iniziato ad applicare delle norme tecniche affinché appunto si vada verso la possibilità di cercare di ridurre l'inquinamento acustico proprio di quelle aree. Una tra le misure più importanti che è stata posta in evidenza è quella praticamente di non dare più deroghe per esempio per eventi nel quadrilatero. Un'altra linea che prevede il piano di risanamento acustico è quella di cercare sostanzialmente di ridurre l'occupazione del suolo pubblico con i tavolini andando a dare l'occupazione esterna proporzionata all'occupazione interna, cioè i posti esterni sono sostitutivi di quelli interni, quindi se un bar ha 10 posti interni avrà 10 posti esterni anche perché c'è un regolamento di igiene e sanità che prevede un metro quadrato a persona. Il piano di risanamento prevede tante misure per cercare di abbattere questo inquinamento acustico, noi stiamo ascoltando non solo l'ingegnere che lo ha redatto, appunto arriverà in consiglio fra pochi giorni, fra poche settimane per l'approvazione definitiva, ieri abbiamo ascoltato le associazioni di categoria e riteniamo che bisogna purtroppo fare un passo importante in avanti per fare in modo che ci sia un equilibrio in quella zona tra i residenti e i commercianti.